Oggi siamo in compagnia dell'Avvocato Michele Rperri, responsabile dell'area legale e della funzione Compliance della Prestitosi. Buongiorno Francesca e un saluto a tutti coloro che ci seguono. Michele, da quanto tempo ricopri il ruolo di responsabile della Compliance della Prestitosi? Ricopro il ruolo di responsabile Compliance della Prestitosi in outsourcing circa dal 2013-2014, quando la società superò il limite dimensionale di 20 collaboratori e quindi in quel periodo la CDA cercava un professionista al quale affidare l'incarico di responsabile della funzione Compliance e di secondo livello. Dunque ho mosso i primi passi come responsabile della funzione Compliance in questa azienda e nel tempo sono cresciuto sia come professionista che come persona. Bene Michele, quali sono le principali attività che quotidianamente bisogna affrontare nell'area Compliance? Francesca, l'attività principale consiste nel verificare che l'azienda in qualità appunto di mediatore creditizio operi in conformità alla normativa tempo per tempo vigente. In questo contesto riveste estrema importanza il costante monitoraggio della rete distributiva per verificare appunto che tutti i nostri collaboratori rispettino le disposizioni vigenti in materia di trasparenza, antiriciclaggio e privacy. Tale attività viene eseguita sia attraverso accessi ispettivi sulla rete distributiva, sia on-site, ossia in loco, presso i loro uffici, sia off-site, ossia a distanza. Michele, quanto è importante per la prestito sia per tutta la rete di collaboratori e consulenti ricevere il supporto della funzione Compliance? La normativa di settore stabilisce precisi obblighi e direttive, la cui osservanza è digita appunto perché al centro di tutto c'è la tutela del consumatore. La presenza di una funzione Compliance in un'azienda di relazioni creditizie permette di rispondere riempestivamente a qualunque quesito o problematica, inoltre consente di rapportarsi in maniera costruttiva con gli organi di vigilanza. Il monitoraggio continuo e il rispetto della normativa aiutano inoltre a consolidare la remutazione che la società ha costruito nel corso degli anni e a tutelare oltremodo il consumatore. Michele, grazie mille della tua testimonianza e il mio viaggio all'interno della prestito si continua. Mi accompagneresti dai colleghi di Criamo Valore Italia? Grazie a te Francesca, certo andiamo.